In studio Marco Scavino. Bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura una operazione antimafia che ha portato a 18 fermi di altrettanti indagati che dovranno adesso rispondere di associazione di tipo mafioso ma anche di reati legati proprio allo spaccio di sostanze stupefacenti perché sono 6 le piazze che di fatto hanno chiuso i battenti in merito alla commercializzazione della droga nel Palermitano. C'era un po' di tutto, marijuana, hashish, eroina, cocaina, stupefacente che poi una volta venduta andava a rifornire le casse della mafia. Sentite. 18 indagati ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e rapine aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose sono stati raggiunti da un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA della Procura della Repubblica di Palermo ed eseguito dai carabinieri palermitani. L'operazione denominata Vento rappresenta l'esito di una complessa attività di indagine svolta in direzione del mandamento mafioso di Palermo, Porta Nuova. In particolare le indagini condotte grazie alle intercettazioni audio e video e pedinamenti del territorio caratterizzato dal controllo di Cosa Nostra hanno consentito di delineare l'organigramma del mandamento mafioso di Porta Nuova, individuando colui che era capo del mandamento, nonché altri sodali sospettati di essere figure apicali e gregari qualificati delle famiglie di Porta Nuova e Palermo Centro, di ricostruire un'articolata associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di ogni tipo, ascici, marijuana, cocaina, eroine e crack, gestita in tutta la sua filiera dai vertici del mandamento mafioso per alimentarne le casse. Sono stati infatti fermati i presunti capi di sei ben piazze di spaccio localizzate nei centralissimi quartieri del Capo, della Vucciria, di Ballarò e della Zisa, via De Cipressi, piazza in Gastone e via Regina Bianca, capeggiate da elementi ritenuti organici a Cosa Nostra. Ed ancora, clarare due episodi estorsivi e cinque tentativi di estorsione in danno ad imprenditori e commercianti del centro cittadino e dimostrare la commissione di due rapine a mano armata finalizzate a rimpinguare le casse del sodalizio. L'ultimo grave fatto di sangue in ordine di tempo è il 30 giugno scorso con l'omicidio di Giuseppe in Contrera, ritenuta ai vertici della famiglia mafiosa di Porta Nuova, che avrebbe potuto aumentare il rischio della commissione di delitti o di rafforzare la volontà degli indagati di darsi alla latitanza perché responsabili diretti o indiretti di questi omicidi o comunque per sottrarsi anche da eventuali ritorsioni. E a proposito di droga, operazione antidroga in territorio di Scicli, a Cava Daliga, nello specifico un'operazione che ha portato all'arresto di un 73enne di origine romana, celibe, pensionato ed incensurato. I carabinieri venuti a conoscenza attraverso precedenti servizi di osservazione dell'esistenza di una vera e propria piantagione domestica coltivata dall'uomo di 73 anni presso la propria abitazione nella frazione di Cava Daliga, borgata sul mare di Scicli, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Trovate 182 piantine di marijuana di altezza variabile, dai 40 centimetri fino ai 2 metri di altezza, tutte piantumate in una aiuola ricavata dall'uomo nel giardino pertinente l'abitazione. Circa 100 mila le dosi ricavabili che avrebbero fruttato sul mercato illegale, circa 500 mila euro. Dieci persone adesso devono rispondere di immigrazione clandestina, un'operazione internazionale che parla però anche dei nostri territori. Farebbero parte di una compagine trasnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al terrorismo internazionale, sgominata dalla Guardia di Finanza e dei comandi provinciali di Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Messina, Ragusa e Siena. L'operazione denominata Sharon ha portato ad eseguire un'ordinanza di applicazione di misura restrittiva della libertà nei confronti di dieci persone gravemente indiziate dei reati di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Un'operazione sul territorio regionale e nazionale che ha portato all'arresto di cittadini italiani ed extracomunitari con collegamenti, almeno di alcuni degli indagati, con ambienti del terrorismo internazionale. Il provvedimento cautelare è stato emesso dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del Capoluogo Siciliano. A tutti gli arrestati viene contestata l'Associazione per delinquere e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini hanno dimostrato la capacità delle organizzazioni criminali a carattere transnazionale di offrire nel settore dei traffici di esseri umani nuovi servizi volti a rendere le traversate più sicure, ovviamente in cambio di retribuzioni maggiorate con lauti guadagni, ma anche e soprattutto a garantire la non identificazione dei soggetti sbarcati da parte delle autorità nazionali, ciò sia per assicurare una loro maggiore libertà di movimento una volta giunte a destinazione, sia per consentire ai ricercati di sfuggire alle forze di polizia o per assicurare l'anonimato a quei soggetti che si regano in Europa con finalità illecite. Le indagini hanno dimostrato che la compagine criminale fosse attiva nell'organizzazione di trasporti marittimi tra la Tunisia e le coste trapanesi o agrigentine della Sicilia di gruppi di nordafricani in grado di sostenere l'elevato costo dell'esclusivo transito a bordo di veloci e funzionali gommoni, spesso intenzionati a sottrarsi alle ricerche delle autorità di polizia tunisina. Si è anche scoperto che il servizio offerto dall'organizzazione criminale non si concludeva con lo sbarco, ma ricomprendeva anche successive forme di assistenza volte a garantire la permanenza illegale dei migranti nel territorio italiano, quali la sottrazione ai controlli delle forze di polizia, l'avvio verso le località di destinazione, il trasporto e l'accoglienza presso abitazioni sicure, fino al farli scappare dai centri di accoglienza. In una circostanza è stato anche accertato che il principale responsabile dell'organizzazione ha ospitato in provincia di Trapani e poi aiutato a fuggire in Tunisia un uomo con collegamenti con ambienti terroristici, destinatario di mandato di cattura europea, spiccato dall'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, perché responsabile del delitto di tentato omicidio commesso in l'ipsia nel 2020, consentendogli di sottrarsi alle ricerche delle competenti autorità tedesche ed italiane. Dall'operazione transnazionale che ha fatto luce su questi episodi di migrazione clandestina all'emergenza costante giornaliera quotidiana degli sbarchi in Sicilia, Lampedusa è al collasso. Intanto nuovo sbarco a Pozzallo è arrivata con 309 persone, la Ocean Viking. Sono 309 le persone approdate questa mattina al porto di Pozzallo. Una grande percentuale delle persone arrivate risultata essere positiva al test anti-Covid-19. Per questo motivo le operazioni sono andate a rilento a metà della mattinata fino alle prime ore del pomeriggio, in quanto per problemi di spazio e gestione delle persone positive si registrano ritardi nell'esecuzione di tutti i tamponi. Le persone risultate negative al test saranno destinate ad un altro centro e lasceranno Pozzallo. Raggiungeranno con ogni probabilità tutti i componenti del gruppo dei negativi il centro di contrada Cifali tra il comune di Ragusa e il comune di Comiso, ma non si escludono possibili trasferimenti diversi nelle prossime ore. Intanto a Lampedusa si vive una reale emergenza. L'hotspot è in condizioni igienico-sanitarie pietose. La struttura è al collasso nella struttura che, sulla carta, potrebbe ospitare non più di 200 persone. Ve ne sono circa 1.100 per lo più provenienti da Bangladesh, Tunisia, Egitto e Siria. La denuncia arriva dal segretario generale del COISP, Domenico Pianese. Manca l'acqua da due giorni, la spazzatura è ovunque, aggiunge. Il percolato invade le stredine del centro di accoglienza. In tutto questo l'attività di vigilanza è affidata a tre squadre di agenti, appena 30 uomini in tutto, costretti a turni di lavoro di 14-16 ore. Non si può andare avanti così, sottolinea il segretario generale del COISP. Tre arresti per rapina nel Catanese. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Masca Lucia, dove dovranno rispondere proprio di questo reato tre persone, due uomini e una donna. Uno, due di questi tre sono fratello e sorella. Sono stati arrestati i presunti artefici della rapina in un'agenzia assicurativa di Masca Lucia nel Catanese lo scorso 28 aprile a finire in carcere Marco Privitera, di 38 anni, Angelo Maimone, di 56 anni, entrambi di AC Sant'Antonio, e la sorella di quest'ultimo, Carmela Maimone, di 52 anni. I primi due erano già detenuti presso la casa circondariale di Enna e la donna era già sottoposta agli arresti domiciliari per altra causa. Secondo una prima ricostruzione, Primitera, fingendo di essere interessato a stipulare un contratto assicurativo per un'autovettura, avvolto scoperto ed armato di pistola, sarebbe entrato in agenzia per poi minacciare la dipendente di consegnargli 10.000 euro. Ottenuto il bottino, si sarebbe allontanato per le vie limitrofe, per poi essere raggiunto dai due complici, con cui avrebbe consumato anche un caffè nei pressi di un'area di servizio nella Cese. Tutti e tre sono stati rinchiusi in carcere. I due uomini, già arrestati il 3 maggio in flagranza di reato dai carabinieri di San Giovanni la Punta per una rapina a mano armata, successivamente rivelatesi un'arma giocattolo, ai danni di un ufficio di spedizioni di via Etna, erano stati raggiunti nei giorni scorsi da una ulteriore ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Etneo, poiché gravemente indiziati nella rapina avvenuta il 17 marzo scorso in danno di una centralissima farmacia nel comune di Via Grande. Ancora sangue sulle strade siciliane, due le vittime. Tragico incidente mortale ieri lungo la statale 120, tra ganci e Geraci Siculo, nelle Madonie e nei pressi del bivio di Contrada Acquanuova. La vittima è Emanuele Menzo, motociclista di 26 anni, che ha perso la vita dopo uno scontro tra la sua moto e un'auto. Secondo una prima ricostruzione, il Centauro non avrebbe fatto in tempo evitare l'impatto con l'auto che proveniva da una strada laterale. Emanuele Menzo è morto sul colpo e il comune di Geraci Siculo ha pubblicato un post su Facebook per esprimere cordogli alla famiglia. La cittadinanza si legge nel post che porta la firma del sindaco. L'amministrazione e il Consiglio Comunale si stringe al dolore incommensurabile della famiglia Menzo Malla per la tragica scomparsa di Emanuele, giovane solare, gran lavoratore e inserito nel tessuto sociale e dell'associazionismo di Geraci. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente è mortale. E ieri un altro incidente nel palermitano è costato la vita a uno 87enne Giovanna Giglio morta e investita da uno scooter mentre saliva a bordo dell'auto del figlio in via Cesare Terranova a Palermo. Le ragioni e responsabilità del violento impatto fatale per l'87enne sono al vaglio degli inquirenti. Il conducente è indagato per omicidio stradale. Nonostante il trasferimento in codice rossa a pronto soccorso dell'ospedale Cervello, Giovanna Giglio è morta nel corso della notte. E' un tunisino residente a Caltagirone, il camionista accusato di aver provocato il 17 giugno scorso il tamponamento lungo l'autostrada A1 in territorio di Siena che è risultato fatale alla 37enne Serena Ursillo e all'amica Enrica Macci e che ha provocato anche il ferimento di diverse persone. L'auto alla cui guida c'era Enrica Macci è stata tamponata con violenza dal camion guidato dall'indagato ed è rimasta schiacciata tra quest'ultima e il tir che la precedeva. E' stata disposta una perizia cinematica nell'ambito del procedimento penale per omicidio stradale a carico del 43enne tunisino. Parteciperà come consulente tecnico di parte anche un ingegnere cinematico che metterà a disposizione studio 3A valore SPA per fare chiarezza sull'incidente. Gli agenti intanto del commissariato di noto, cambiamo argomento, al termine di un'indagine hanno denunciato 4 persone per rissa gravata, minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I fatti si sono verificati nei pressi del Ronco Cesare Pavese per una lite tra condomini. Alla base dell'aggressione ci sarebbero futili motivi legati alle spese della corrente elettrica delle lampade installate nelle scale del condominio. Una delle persone coinvolte minacciava un rivale condomino con un coltello che teneva custodito in un borsello a tracolla. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza la polizia è riuscita a fare chiarezza e soprattutto è riuscita a ricostruire i fatti. Ci spostiamo, andiamo a Messina dove è stata scoperta una macelleria abusiva. Una baracca di circa 30 metri quadrati veniva utilizzata per la macellazione abusiva, scoprirle e sequestrarle. I finanzieri del comando provinciale di Messina che hanno condotto una significativa operazione a tutela della salute pubblica, la baracca si trova in località Bordonaro superiore del comune messinese. Il blitz, oltre che dai finanzieri, è stato eseguito anche dai veterinari e dagli ispettori tecnici della prevenzione dell'ASP di Messina. Nello specifico, secondo le ipotesi dell'accusa, che dovranno trovare conferma nei successivi gradi di giudizio, è emerso che il locale era dotato di tutti gli attrezzi di una regolare macelleria, banchi in acciaio, ceppi in legno, lavatoio, macchine per insaccati, affettatrice, coltelli di varie misure, mannaie, bilancia, cella frigo in funzione e ovviamente un apposito prezziario per i clienti. I finanzieri hanno trovato anche pezzature di carne bovina e suina ed insaccati appesi pronti alla vendita. L'immobile era stato realizzato in mattoni forati, parzialmente intonacato, con copertura in pannelli coibentati, poggianti su una struttura in ferro. Lo stesso risultava fornito di alimentazione elettrica con relativo quadro interruttori. All'interno risultava pavimentato con piastrelle e i muri perimetrali si presentavano rifiniti all'interno. Segnalato alla Procura della Repubblica di Messina, il responsabile è sequestrato l'immobile. I finanzieri hanno anche provveduto a contestare le relative violazioni amministrative in materia di abusivismo commerciale ed igiene pubblica, unitamente al personale dell'ASPE di Messina. Al gestore dell'esercizio, totalmente sprovvisto dei requisiti inerenti alla sicurezza alimentare e igienico-sanitaria del locale, è stata applicata una sanzione amministrativa di circa 6.000 euro, a cui si aggiunge il provvedimento di sospensione attività e di vendita degli alimenti. E a Catania, invece, controlli della Capitaneria sono stati eseguiti per verificare la tracciabilità del prodotto ittico nei ristoranti di Capomulini. Al termine delle ispezioni sono state riscontrate irregolarità in due noti ristoranti della Borgata Marinara e sono state elevate sanzioni amministrative per 1.500 euro ciascuno, per mancanza della documentazione attestante la tracciabilità del pescato presente sui banconi frigo. Tutto il prodotto ittico sequestrato, asseguito di accertamento sanitario a cura del personale veterinario dell'azienda sanitaria provinciale di Acireale, è stato distrutto poiché è dichiarato non idoneo al consumo umano. Lo state guardando proprio da queste immagini. Cambiamo argomento, la pagina del lavoro con la protesta, le rimostranze dei lavoratori ASU. E' una situazione delicata quella che riguarda i lavoratori ASU approdata ieri pomeriggio sul tavolo del Dipartimento dei Beni e dell'identità siciliana della Regione. Nel corso dell'incontro a cui hanno preso parte referenti delle sigle COBA, SALE, UGL, UGL Autonomia Sicilia, CONFINTESA, USB e CGL sono state ottenute delle garanzie per il futuro dei lavoratori dal dirigente generale del Dipartimento dell'Assessorato al Lavoro, l'ingegnere Gaetano Sciacca e dal dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali dell'identità siciliana, Franco Fazio, intervenuti anche per conto della ragioneria regionale. Sono state ottenute delle garanzie per la variazione di bilancio che sarà portata in aula a luglio, come ha raccontato Rosolino Lucchese, segretario regionale aggiunto di UGL Autonomia Sicilia. Ci sono dunque le prospettive di un'integrazione aerea richiesta da 20 a 36 ore, da attivare fino a dicembre 1.300.000 euro, una situazione che servirebbe anche per sopperire alla carenza di personale causata anche dai recenti pensionamenti, 800 pensionamenti in poco più di tre anni, un periodo tra l'altro dove c'è molta affluenza di turisti. Ciò servirebbe a dare anche una maggiore dignità, sia economica che lavorativa, ai lavoratori e saranno riorganizzati al bisogno rispetto ai siti siciliani in cui lavorano adesso. L'obiettivo finale resta però la stabilizzazione di questi lavoratori impiegati in attività socialmente utili ma utilizzati direttamente dall'amministrazione regionale come se fossero dipendenti pubblici. Lo hanno fatto presente nel corso della manifestazione che si è svolta ieri alle 15 prima della convocazione in Piazza delle Croci. Siamo realmente arrabbiati come lavoratori perché lavoratori LSU, ASU, da 25 anni, senza alcune tutele e senza alcune prospettive di stabilizzazione, visto l'impugnativa dell'articolo 36. Il Dipartimento Lavoro sta utilizzando illegittimamente questo personale in quanto sta lavorando in nero e senza nessuna tutela. Sulla carta sono lavoratori socialmente utili, nella realtà sono dipendenti pubblici a tutti gli effetti. Il Dipartimento avrebbe l'obbligo della stabilizzazione secondo una legge dello Stato ma anche recepita in Sicilia già da oltre 20 anni. Ancora la pagina del lavoro con la carenza del personale dei vigili del fuoco in Sicilia con anche le richieste del pagamento degli stipendi pregressi. Interventi quadruplicati con alte temperature, rischio nubifraggi improvvisi. In Sicilia c'è il problema della carenza di organico dei vigili del fuoco che allo Stato attuale stanno boccheggiando. E non poco perché gli interventi si sono quadruplicati, viste le alte temperature con il pericolo di nubifraggi improvvisi, con i cambiamenti tra aria calda e aria fredda. E intanto l'organico continua a diminuire. Non c'è speranza di avere un organico adeguato per la regione siciliana che quotidianamente vanno in pensione i colleghi. La situazione è imbarazzante e drammatica. Questo l'appello di Carmelo Barbagallo del sindacato USB dei vigili del fuoco in Sicilia. Noi siamo stanchi di dover attendere sia i pagamenti degli straordinari del CAS, i pagamenti dell'alluvione 2021 e di seguito tutti gli altri straordinari espedati, i buoni pasto che è tardonato ad arrivare. Ovviamente i lavoratori mettono soldi di tasca propria. E inoltre dopo di questo c'è la problematica carenza di organico perché i vigili del fuoco allo stato attuale stanno boccheggiando e non poco perché gli interventi si sono quadruplicati viste le alte temperature. Sicuramente torneremmo in prefettura perché oltre al danno c'è anche la beffa della truffa alle nostre tasche, dei lavoratori che si mettono in prima linea e rischiano la vita senza essere tutelati, non avere riconoscimento delle malattie professionali e non avere riconoscimento economico degli straordinari espedati. Dobbiamo aspettare mesi e mesi e poi quando arrivano magari poi ce li tassano 15 volte e ce li levano mensilmente dallo stipendio. Pertanto da un lato li danno e da due lati li levano. E la Sicilia intanto fa i conti con un'ondata di calore davvero devastante per le culture per soprattutto i fenomeni che poi ne conseguono in riferimento alla macchia mediterranea andata distrutta per ettari e ettari a causa degli incendi. La protezione civile regionale siciliana ha diffuso un bollettino oggi per rischio incendio di ondate di calore valido dalla mezzanotte per le successive 24 ore livello 3 colore rosso a Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previsto per oggi e domani con una temperatura massima percepita di 35 gradi per entrambe le giornate. Per quanto riguarda il rischio incendi per la giornata di oggi nella provincia di Palermo permane la previsione di una pericolosità alta. E intanto ieri tanta paura per il vasto incendio che si è sviluppato all'interno della Corte che delimita l'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca nell'Agrigentino. Il arrogo alimentato dalle elevate temperature ha bruciato le sterpaglie che si trovano attorno alla zona lambendo l'ingresso posteriore della struttura e causando apprezzione tra pazienti e personale sanitario. Non è stato comunque necessario ricorrere all'evacuazione dei locali del complesso ospedaliero per la durata delle operazioni di spegnimento. La situazione è rimasta sotto controllo. Le fiamme si sono avvicinate anche all'autoparco delle autoline situato proprio vicino all'ospedale. Non si registrano danni gravi. Pubblicità tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Ben trovati in studio. La pagina dedicata all'ambiente con i rifiuti. Rifiuti che pullulano nelle strade siciliane. Un incontro si è tenuto a Roma e che è stato commentato, o meglio, il commento che si è registrato al termine dell'incontro dell'assessore Baglieri, l'assessore regionale all'ambiente della nostra regione. E' stato condiviso un percorso e un punto di partenza. Sentiamo. Tornerà a riunirsi il prossimo 12 luglio il tavolo di crisi sull'emergenza rifiuti in Sicilia che si è insediato ieri a Roma. L'emergenza nazionale in atto, anche sulla nostra isola, sta causando notevoli disagi sui territori e alla popolazione, sì dal punto di vista igienico-sanitario che è ambientale. Ha commentato l'assessore all'energia della regione siciliana Daniela Baglieri che ha proposto l'incontro insieme al direttore del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, Calogero Foti. Con l'insediamento del tavolo ministeriale è stato sancito un percorso condiviso che in via prioritaria applica il principio di prossimità nella gestione dei rifiuti, prosegue l'assessore Baglieri. La riunione si è svolta nel primo pomeriggio di ieri presso il Ministero della Transizione Ecologica. si è trattato della prima riunione per affrontare nel dettaglio di concerto con il Ministero l'emergenza rifiuti nell'isola e la definizione del piano rifiuti siciliano. Presenti al tavolo, oltre all'assessore Baglieri, il capo di Dipartimento della Transizione Ecologica del Mite, Laura D'Aprile, il dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, Silvia Grandi, e il capo di Gabinetto Vicario della Presidenza della Regione, Eugenio Ceglie, e Federico Lasco, dirigente generale del Dipartimento Programmazione. Come spiega l'assessore Baglieri, andranno espedite adesso prima tutte le azioni propedeutiche previste dal testo unico ambientale, sia per scongiurare il perpetrarsi dell'emergenza in Sicilia, ma anche per il successivo trasferimento dei rifiuti fuori dalla Regione. Nella sua trasferta a Roma, l'assessore Baglieri ha anche incontrato l'ingegnere Andrea Raffanelli, capo della Direzione Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, per uno scambio di opinioni e suggerimenti. Procedono i lavori per riaprire il tratto di Viale Regione Siciliana a Palermo in direzione Trapani, interdetto al traffico da quasi due anni a causa del cedimento dell'asfalto. Sopra il luogo da parte delle istituzioni, da parte del Sindaco Lagalle e del Presidente della Regione Musumeci, gli operai dell'impresa Mondello Costruzioni di Sant'Angelo di Brolo, hanno messo in sicurezza il canale sotterraneo Passo e stanno procedendo proprio in questi giorni con la gettata di cemento per definire il nuovo solaio su cui sarà possibile ripristinare il tratto di carreggiata. L'esperienza di questo cantiere è stata una vergogna, ha dichiarato Musumeci. Noi non avevamo un ruolo in questa vicenda, ma siamo comunque intervenuti a febbraio per sbloccare lo stallo. Ci vorranno 25 giorni perché il cemento si asciughi e insieme al Sindaco Lagalle abbiamo strappato all'impresa l'impegno che a settembre la strada possa essere riaperta totalmente. Ancora le infrastrutture perché inizieranno domani i lavori di riqualificazione della circonvallazione a Catania, gli interventi di messa in sicurezza realizzati allo scopo di eliminare i tanti pericoli di un'arteria nevralgica per il traffico veicolare urbano e quello interurbano saranno eseguiti senza interrompere il flusso viario. Il progetto di riqualificazione è finanziato nell'ambito dei fondi comunitari del patto per lo sviluppo di Catania. L'apertura del cantiere arriva dunque a conclusione di un iter complesso con l'inserimento del progetto di una totale messa in sicurezza di circonvallazione, 16 anni dopo gli ultimi lavori di riqualificazione sull'arteria snodo del traffico veicolare, in gran parte proveniente dai comuni dell'area metropolitana diretta a Catania e in uscita dal capoluogo. Restiamo sul versante etneo, parliamo però di prevenzione dei tumori. La pandemia ha compromesso la macchina della prevenzione, test, esami che avrebbero potuto aiutare migliaia di persone che invece hanno subito un decremento. Negli ultimi mesi però si è registrato una reale inversione di rotta. A Catania sono stati finora oltre 5.000 fra mammografie, pep test e HPV test, ricerca del sangue occulto nelle feci, gli esami eseguiti gratuitamente dal camper della prevenzione oncologica nell'ampito della campagna di prevenzione oncologica porta a porta avviata il 6 maggio scorso da Catania e che ha raggiunto 49 comuni del Catanese. Lo rende noto l'azienda sanitaria provinciale di Catania aggiungendo che l'iniziativa ha coinvolto sinora i distretti sanitari di Catania, Cireale, Adrano, Bronte, Giarra e Gravina di Catania, Palagonia e Paternò. E dopo la pausa estiva le attività riprenderanno a Lico di Eubea nel distretto sanitario di Caltagirone interessando i comuni di Lico di Eubea, San Cono, Mazzarrone, San Michele di Ganzeria, Gran Michele, Caltagirone, Mineo e Mirabella in Baccari. È ancora possibile prenotare gli esami di screening oncologici chiamando il numero verde 800 89 4007. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. MTG torna alle 20.30. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS